Questo palco era stato montato proprio per riuscire a dare risposta a tutta una serie di eventi importanti organizzati durante il 2024. Attualmente abbiamo recuperato il vecchio Palasport, che sarà quello lo spazio dove organizzeremo da qui in avanti quelle che sono le principali iniziative legate a Pesaro, capitale italiana della cultura. Però monteremo comunque un nuovo palco a breve in Piazza del Popolo, attorno alla biosfera, perché riteniamo che tutta una serie di eventi minori, più piccoli, possono essere organizzati anche nella piazza. Quindi non c'è stata nessuna volontà di smontare il vecchio palco, cioè quello grosso, che ha accompagnato fino adesso il peggio capitale italiano della cultura. Non c'era un motivo politico per cui è stata smontata. È stato smontato perché comunque mantenere la montata aveva dei costi. Questi costi non erano, come dire, bilanciati da quelli che erano i benefici, anche perché il nuovo auditorium che noi oggi abbiamo recuperato consente di organizzare tutti quegli eventi che vogliamo organizzare. E quindi da qui la scelta di smontare il palco che era stato montato appunto per l'inizio di Pesaro, capitale italiana della cultura. Per quanto riguarda invece tutto il tema della sollecitazione che ho fatto ai gruppi di opposizione di incominciare a occuparsi delle cose reali che riguardano i cittadini, devo dire che è stata la mia una provocazione perché sono settimane che parliamo di cose che secondo me interessano ben poco alla gran parte di tutti i pesaresi. Oggi abbiamo dei problemi importanti e, come dire, urgenti che dobbiamo affrontare. Dobbiamo affrontare il tema di dove portiamo i 100 posti letto legati alla salute mentale, che ad oggi la Regione prevede di portare tutti fuori dalla città di Pesaro. Il sindaco non può accettare una cosa di questo tipo e quindi chiede da una parte anche aiuto all'opposizione, cercando di stimolarli ad occuparci di questioni e problemi reali. Per quanto riguarda un nuovo ospedale, noi riteniamo che abbiamo sempre saputo che dal primo di ottobre partiva il cantiere. Chiediamo ai consiglieri di opposizione, che fanno parte della stessa parte politica del governo regionale, di darci delle risposte. Il cantiere parte o non parte?